A Napoli, sullo spiazzo della stazione marittima, cambio delle consegne tra i due amiragli, Carne e Wright. Nel lasciare il comando, dice Carne, esprimo a tutti la mia riconoscenza, a tutti il mio augurio sincero per l'avvenire. Wright, dopo la lettura dell'ordine del giorno, fa istare le proprie insegne. L'ispezione ai Marines è per Carne un marziale e cordiale a rivederci. È noto che il comando aggiuntivo delle forze navali est-atlantiche e mediterraneo è stato conferito a Wright, di cui ora le salve dal Aiderondeck salutano l'insediamento, per consentire a Carne di dedicarsi esclusivamente alla sua attività di comandante del Sud Europa con quartiere generale a Londra.